E nessuna mano sulla mia fronte Che si prende cura di me Sono Medea Sono Medea Sono Medea Sono Medea Sono Medea Sono Medea Tutti parlano di me Ma chi li conosce? Medea Medea Io Medea Che sono E Paggla Chia E ora Sono Medea Sono Medea Di me Mi Dior Io Mi Dior Io Mi Dior Io Mi Dior tutti che mi raccontano ma chi lo sapbe sono chi lo sapere sono chi lo sapere sono chi lo sapere che posso toccarvi una vita terribile o una misera morte che i vostri fianchi possano salire al cielo senza commuoverlo io mi dimmi vi si In quale luogo? In quale mondo? E pensabile il tempo in cui io posso stare bene? Qui non c'è nessuno a cui lo possa dire. E questa è la risposta. 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 Grazie. Grazie. Grazie.